Io dico che chi è che ha sbagliato deve pagare, anche se non mi riporterà sicuramente mio figlio. Era stato un appello accorato, sconfortato, quello di Giussi Cici, madre del giovane metronotte Giovanni Manna, 29 anni, deceduto lo scorso 17 gennaio dopo diverse visite effettuate al pronto soccorso dell'ospedale Garibaldi, dove lavorava, e un ricovero all'ospedale Ferrarotto. Questa mattina, due settimane dalle parole pronunciate dalla donna raccolte da TJ News nei giorni della processione, dove in tanti si erano raccolti per ricordare Giovanni davanti l'edicola votiva di Sant'Aga di Inviadusmet, la procura di Catania ha fatto arrivare un avviso di garanzia per quattro medici in servizio quella sera al pronto soccorso dell'ospedale Garibaldi Vecchio. Sono iscritti sul registro degli indagati per concorso in omicidio colposo. L'autopsia è stata eseguita solo ieri. Secondo l'accusa, i medici nel visitarlo non gli avrebbero diagnosticato un problema cardiaco. Grazie. Grazie. Grazie.